Secondo un rumor ci saranno almeno due Game as a Service nella line-up di Sony per il 2024, insieme anche ai single player, GTA 6 ci sono dei rumor su dei DLC che dovrebbero uscire per il gioco che ancora dobbiamo vedere, ma soprattutto ragazzi ci sono state le nomination per i Game Awards e hanno fatto abbastanza discutere. Questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast e grazie mille a Instant Gaming per aver sponsorizzato questo episodio. Allora gente, prima devo fare una premessa prima di questa news, io le nomination ai Game Awards ammetto di non averle particolarmente considerate per un semplice fatto ragazzi, mi fa piacere speculare come sapete, come dovreste sapere bene, mi fa piacere parlare di mondo videoludico ma le premiazioni me ne frega decisamente fino a un certo punto, o meglio, mi interessa parlare dei Game Awards ma di solito dopo, no? Che cosa significano i premi ricevuti? Le nomination, il totonomi, queste cose mi interessano molto bene, quindi ammetto di non averla coperta tanto, ma a quanto pare le nomination che ci sono state nell'ultime ore hanno fatto discutere, perciò adesso ne parliamo. E dato che si parla di Game Awards si parla di qualcosa che avverrà fra meno di un mese, quindi in realtà ci stiamo avvicinando. Ci sono state nelle ultime ore proprio tutti quanti, tutte quante le nomination per tutte le categorie, in realtà, dei Game Awards, ma ovviamente tutta l'attenzione, o quasi tutta, è sulle nomination proprio per il titolo gioco dell'anno. E vediamo quali sono e vediamo che cosa è stato detto. Game Awards 2023, ecco l'elenco dei nominati al GOTY, chi vincerà quest'anno? Game Awards 2023, l'elenco dei più promettenti un 2023, davvero carico di grandi avventure video ludiche, è emerso in rete, i nomi in ballo sono diversi, ognuno di loro ha entusiasmato la critica e il pubblico nel corso dei mesi, perlomeno grosso modo. E i nomi sono Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, remake, tra virgolette, e Super Mario Bros. Wonder. E c'è anche The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, naturalmente. Remedy, Larian, Insomnia, Capcom e Nintendo, solo i 5 software house in gara per l'ambito premio riconosciuto a tutta l'industria videoludica, notare che Nintendo ha due titoli. Sebbene vi siano molti altri nomi non presenti alla lista che hanno contribuito alla realizzazione di un anno all'insegna del grande gaming, ma solo 6 titoli hanno avuto la meglio nella corsa del GOTY, a quanto pare. Io ovviamente se ne è discusso, ma i più nominati sembrano essere proprio Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2, perché non c'è ovviamente la lista soltanto del gioco dell'anno, ci sono tantissime altre nomination per i premi più specifici. Nella lista dei videogiochi in nomination spiccano Marvel e Spider-Man 2 con 7 candidature, la copiata rappresentata da Zelda Tears of the Kingdom e Super Mario Bros. Wonder con 5 nomination ciascuno. Subito dopo c'è Final Fantasy XVI, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty con 4 nomination e Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6 con 3 nomination. Starfield deve accontentarsi invece della sola nomination per il Best RPG of the Year. E ovviamente c'è anche tutta quanta la lista, quindi la potete recuperare di tutti quanti i candidati per ogni categoria che riceverà un premio. La lista è abbastanza lunga, non ve la copro qua nelle news, però se siete interessati ovviamente sapete dove trovarla. E' veramente lunga, quindi non sto a dirvela tutta adesso. Ovviamente però ci sono state un po' di polemiche per l'assenza di Starfield, Street Fighter VI e Final Fantasy XVI, che sono stati esclusi dal GOTY. Pur gareggiando, questi qua non correranno per il titolo di Game of the Year. Starfield, l'attesa spesso opera di Bethesda, Street Fighter VI il picchiaduro, la celeberrima serie di Capcom e Final Fantasy XVI, ultimo episodio della nota saga di Square Enix. E Starfield al momento può contendersi unicamente il titolo di Best RPG, sfidando Baldur's Gate 3, Final Fantasy XVI, Lies of P e Sea of Stars. Final Fantasy XVI compete anche per la categoria Miglior Narrativa e Best Score and Music. Street Fighter VI invece, e credo che sia molto più adeguata per questa che per il componente RPG che è praticamente assente in Final Fantasy XVI, Street Fighter VI invece compare tra i nominati alla categoria Innovazione e Accessibilità, Best Fighting Game e Miglior Gioco Multiplayer. Alla luce dell'esclusione sono affiorate in rete alcune polemiche a far discutere solo la loro assenza, ma anche la presenza di alcuni nomi fra i candidati ritornati da alcuni a paragone meno indicati. Alcuni, e se ne è parlato anche in live, effettivamente, durante la live che abbiamo fatto, lamentano la presenza e resentivo il quattro tra i candidati in quanto remake. In linea generale, naturalmente, non c'è una lista universalmente condivisibile delle nomine e ognuno ha la sua opinione. Allora ragazzi, io devo dirvi che, come vi stavo dicendo durante l'introduzione, non essendo una persona particolarmente interessata alle nomination, io francamente non le prendo troppo sul serio. Perché? Perché sono frutto di talmente tante dinamiche che è inutile cercare di capirle e soprattutto è inutile dargli tutto questo peso, a mio modesto parere. Io credo che i Game of the Year vadano presi per quello che sono una premiazione. E in quanto tale, con decisamente poco valore, per quanto riguarda il valore intrinseco proprio del videogioco. È un segnale del mercato, è un segnale dei giocatori, è un segnale della critica, è un segnale delle aziende. Vedetelo un po' come volete, ma io calerei di un po' di tacche il valore di questo goti. È la stessa cosa che dico tutti quanti gli anni, no? E anche quest'anno ve la ribeccate. Siete contenti? Bene. Allora, però, volendo parlare di questa cosa, effettivamente, forse, quello che ci sta a meno di tutti è proprio Resident Evil 4 Remake. Non perché non l'abbia apprezzato, anzi, io mi sono divertito un sacco e lo ritengo un gran bel prodotto. Ma siccome è un remake, tra l'altro, che non è mostruosamente diverso dall'originale, ci sta molto meno rispetto al passato in cui anche Resident Evil 2 Remake è stato nominato al goti. Però lì, a mio parere, aveva un po' più senso perché si trattava di un remake che davvero rivoltava come un calzino un gioco molto noto e ha avuto nel fare questo un enorme successo. Questo è più un ottimo prodotto e quindi non lo so, non so se c'entra tanto. L'esclusione di Starfield, che voglio dire, considerando anche tutto quello che ne ho detto anch'io, un po' mi dispiace perché è effettivamente un gioco però dal lampissimo respiro, anche dai grandi difetti, se ne è parlato tantissimo, quanto volete, e l'opinione è abbastanza divisa su questo gioco, ma tantissime persone l'hanno apprezzato e l'hanno giocato. Non lo so, non lo so se ci stava meglio Starfield oppure no, è una possibilità, forse, forse l'avrei gradito di più. Il mio toto nomi, mentalmente, che vi avevo detto e ve l'ho anche detto in live, così buttato lì, era più o meno questo. Io ci avevo visto più o meno tutti gli stessi giochi e devo dire anche che molti di voi ci hanno azzeccato, hanno immaginato più o meno lo stesso toto nomi. Quindi, beh, ho come l'impressione che tutti ci aspettassimo più o meno questo esito qui. Di nuovo, ragazzi, però, francamente, ok, è quello che è. Passerà anche questa e sono piuttosto curioso di vedere chi vincerà. Io, ve lo dico subito e ve l'ho detto da sempre, io tifo, tra virgolette, per Baldur's Gate 3 perché credo che sia un ottimo segnale, non tanto per il gioco in sé, ma quanto per quello che significa la premiazione di questo gioco. Che per quanto vi abbia appena detto che i Game of the Year valgono fino a un certo punto, però qualche segnale lo danno e mi farebbe molto piacere che l'opera di Larian vincesse su tutte le altre e sarei gioioso in questo caso, esattamente come lo sono stato nel 2019 per la vittoria di Takes Two, quindi, no, il 2021, scusate, l'Apsus. Quindi, ragazzi, io prenderei questi nomi per quello che sono e sono dei giochi comunque molto apprezzati in un senso oppure nell'altro e poi, vabbè, ci sono i soliti, diciamo, non-sense nelle varie categorie, no? Se leggete tutto quanto ci sono delle assurdità, ma questo succede tutti gli anni, ragazzi, quindi vi ripeto quello che vi ho detto all'inizio. Ora, la cosa importante è che però questo evento ci sarà, staremo insieme, lo vedremo, e la cosa più interessante di tutti è che in questo evento ci saranno un sacco di presentazioni di giochi nuovi, che è la cosa che mi interessa davvero. Scusate il cinismo, ok? Però, francamente, mi piacciono di più le notizie su giochi nuovi. Ora, ragazzi, dobbiamo parlare un secondo di una cosa che... Esitavo un attimino a mettere proprio in questo slot delle news, perché si tratta di un gioco che deve ancora uscire e dobbiamo ancora vedere un trailer, però dobbiamo parlare ancora di GTA 6 perché è venuto fuori un rumor interessante. Sulla dimensione del gioco diciamo che ci siamo tutti fatti delle aspettative, anche perché ci ha messo del suo Rockstar, giusto? Nell'immaginare questo gioco come una sorta di gigantesco parco giochi per tutti quanti, è un gioco decisamente più ambizioso di quanto non sia stato il 5, no? Bene. Ma come si svilupperà poi l'uscita di questo gioco? Uscirà tutto in una botta o avrà delle espansioni? Bene, secondo un leaker piuttosto famoso, delle espansioni ci saranno, ma peculiari. GTA 6 si espanderà nel tempo con dei DLC single player episodici secondo un leaker. A differenza di quanto accaduto con GTA 4, Rockstar ha preferito non espandere i mondi di GTA 5 con delle espansioni single player, la stessa decisione è stata presa allo software house nel caso di Red Dead Redemption 2. La compagnia ha preferito concentrarsi sul supporto di GTA Online e ancora oggi costituisce un'inesauribile fonti di incassi e Red Dead Online che ha avuto sicuramente meno fortuna nel corso del tempo e anche meno supporto, mi pare di capire. Cambieranno queste cose con l'arrivo di GTA 6? Secondo il noto leaker Test 2, Rockstar tornerà a pubblicare dei DLC single player con l'arrivo di GTA 6, ma lo farà non esattamente nel modo in cui ci aspettiamo. E dice È stato preso in considerazione un DLC single player per ogni titolo a partire da GTA 4, tuttavia i DLC di GTA 5 e Red Dead Redemption 2 non sono mai stati portati avanti a causa dell'attenzione rivolta all'online e dei lavori già avviati sul titolo successivo. Perciò il leaker ha rivelato che si tratta più di contenuti episodici o espansioni che di un singolo DLC single player. Possono farle annualmente o ogni due anni, il che aiuterebbe a ridurre il crunch. Secondo Test 2, si tratterebbe di una manovra volta a ridurre il crunch e gli sviluppatori impiegati nello sviluppo e l'ambizioso progetto. Una voce che corrobora il report del 2020 di Kotaku, secondo cui Rockstar stava cercando di ottenere un ambiente di lavoro più sano e sostenibile per il suo staff. E ora ascoltate bene. Il risultato di questa ricerca avrebbe portato alla decisione di pubblicare un prodotto al day one più modesto dal punto di vista dei contenuti, per gli standard di Rockstar, ma in grado di arricchirsi gradualmente nel corso del tempo. Ok. Scusate, di questo dobbiamo assolutamente parlare. E perché? Perché potrebbe essere una cosa che cambia le carte in tavola e cerco di spiegarmi perché. GTA è un parco giochi e ovviamente guadagna tantissimo con l'online con il sistema più o meno simile a quello di altri live service, d'accordo? Anche se in una maniera un po' tutta sua. È un parco giochi anche in modalità single player, ci mancherebbe altro e moltissimi lo giocano così. Però sì, ha fatto la sua fortuna non solo per l'online, ma anche per le modalità e per le mod della community e per tutto quello che ci si può fare all'interno del titolo. Ma, ma, io dubito che tutto questo verrà abbandonato da Rockstar, anzi immagino che verrà integrato ancora di più. Quindi secondo me tutto questo indica il fatto che Rockstar sta cercando di fare entrambe le cose mischiate insieme, cioè di mettere un gioco che sia contemporaneamente buono per tutte le esperienze che un giocatore può desiderare, sia single player che prettamente online e nel contempo che serva da struttura per l'espansione in futuro con tanti contenuti diversi e sarebbe un modo per monetizzare il titolo in maniera più consistente, dato che questo titolo sicuramente sarà costato lira di Dio, venderà anche lira di Dio, ma se i rumor sono veri mi viene da pensare che questa sia una strategia scelta da Rockstar. Ora, so che vi state tutti quanti allarmando su quello che abbiamo sentito dopo, ovvero magari il fatto che dovrebbe essere più una struttura di base a cui vengono aggiunte poi delle espansioni. Ora, attenzione bene, io non penso che questo voglia dire che sarà un gioco povero di features, assolutamente no. Vi faccio un esempio. Se Cyberpunk 2077 avesse avuto qualche quartiere in meno al lancio, sarebbe poi risultato essere percepito come tanto più piccolo di quanto è adesso? Onestamente è un gioco con tantissimi spazi e Night City è per esempio una città grandissima. Se avessero ridotto Night City di un paio di quartieri e le avessero poi introdotti con un'espansione, a mio parere sarebbe stato perfino meglio nel caso di Cyberpunk perché così non avrebbero combinato un casino di merda al lancio, avendo avuto più tempo per sviluppare qualche asset in meno e quindi sviluppare poi delle cose un po' meglio in futuro e utilizzare queste risorse per realizzare meglio quello che c'è, anche se è un po' più piccolo e con più qualità, magari con ancora più quest e cose del genere. Io immagino che Rockstar abbia comunque, ammesso che questi rumor siano veri, sia chiaro, una mappa gigantesca su cui far giocare i giocatori. Magari non sarà quel titano che noi ci immaginiamo, magari quel titano è la versione complessiva di quello che Rockstar ha in mente per l'intero GTA 6, ma magari un po' di cose arriveranno nel corso del tempo e non tutte quante al lancio. A mio parere questa non è necessariamente una cosa negativa, se è un po' più piccolo di quello che è il grande disegno e viene aggiunto poi piano piano il resto con un'espansione. Perché? Perché questo può assicurare una migliore qualità degli asset che ricevi di volta in volta e non necessariamente un gioco deve essere enorme per essere bello, anzi, abbiamo numerosi esempi di giochi che sono giganteschi ma che non ti fanno venire la voglia di giocarci. No? Probabilmente Rockstar sta cercando di adeguarsi un po' e qui c'è il lato negativo, ovvero ho come l'impressione che rispetto ad altri giochi che sono sul mercato, che comunque hanno guadagnato, cioè GTA 5 ha guadagnato una quantità di soldi spropositata, ma se la mettete in rapporto al numero di milioni di copie vendute, milioni di giocatori, ci sono altri giochi che guadagnano molto di più e quindi, in rapporto a, non in senso assoluto, e quindi io ho come l'impressione che ci sia questa volontà di Rockstar di monetizzare un po' di più il gioco. Però, ripeto, tutto questo discorso che abbiamo fatto, ragazzi, è un po' basato tutto su speculazioni perché dobbiamo ancora vedere il primo trailer e questo è il motivo per cui ho fatto questa premessa all'inizio di questo segmento. Quindi, voglio sentire qual è la vostra opinione, ragazzi, perché sono curioso, soprattutto dagli amanti di GTA. Vi aspettate un gioco che sia mega galattico fin dall'inizio, proprio dal day one, oppure magari anche un gioco un po' più piccolino, non così gigante, ma comunque grande, vi soddisferebbe se fosse più denso, no? Cioè, se fosse più ricco di feature, meglio curate e poi con successive espansioni, anche se questo significa sborsare un po' più soldi? Questa è una domanda interessante secondo me e che può dar adito a tutta una discussione, ma per ora ci sono le news, magari ne discuteremo su un vlog a parte, oppure in live. Potete fare una capatina su Twitch e parlare insieme proprio di questo. Ti piace comprare tanti giochi, vero? È davvero un peccato che i prezzi dei giochi siano così alti che l'operazione chirurgica al cuore di cui tua nonna ha estremamente bisogno dovrà necessariamente aspettare per cause di forza maggiore. Se solo ci fosse un modo per avere i giochi a un prezzo più basso, aspetta, ma c'è! Puoi usare Instant Gaming. Instant Gaming è un sito su cui puoi comprare chiavi di gioco per molteplici piattaforme ad un prezzo scontato rispetto agli store ufficiali. È serio, testato, sicuro e sempre ricco di tante scelte. Quindi puoi comprare tanti giochi, far sì che tua nonna continui a vivere, fare cose e non incappare nei malnati. Sul sito trovi periodicamente offerte, promozioni, giochi appena usciti, giochi in preordine e anche card degli store, playstation e xbox, con cui puoi pagare di meno anche se compri altrove. In descrizione trovi il link per acquistare su Instant Gaming. Così risparmi, hai ancora una nonna e le cose. Compra anche tu su Instant Gaming. Ora torniamo alle news. PS5 rumor almeno due giochi single player e due GAAS nella line-up Sony 2024 per un leak. Il leaker Shinobi, quindi diciamo uno abbastanza versato nella cosa, rivela alcuni dettagli sulla presunta line-up Sony per il 2024, con la casa giapponese che dovrebbe pubblicare almeno due giochi single player e due games a service GAAS su PlayStation 5 e PC, domanda legittima, nel corso dei prossimi 12 mesi. Non specifico, l'insider conferma che Rise of the Ronin e Death Stranding 2 usciranno nel 2024 insieme ad altre cose. Ma sottolinea come probabilmente non ci saranno grandi giochi single player first party prodotti a PlayStation Studios, tipo Spider-Man 2, Ragnarok, Forbidden West, eccetera, in arrivo al prossimo anno, escludendo dunque l'arrivo di un titolo prime party. Le parole di Shinobi farebbero pensare al rinvio di Marvel su Wolverine al 2025, ne avevamo giusto parlato l'ultima volta, no? Nonostante le voci che vorrebbero il gioco Insomniac pronto per il debutto alla fine del prossimo anno. Sarebbero invece due i GAS previsti nella line-up Sony per il 2024, ovvero Eldivers 2 in uscita a febbraio e Concord non sembra esserci tracce invece di The Last of Us multiplayer, forse cancellato definitivamente, ma ne abbiamo già parlato in maniera approfondita. Mentre, come sappiamo, almeno 6 dei 12 giochi live in sviluppo sono stati rinviati a tempo indeterminato, oppure determinati, in realtà non sappiamo di preciso quando. Saranno davvero questi i piani Sony per il 2024 di PlayStation 5? Allora, è effettivamente una cosa che mi immaginavo anch'io, ed è un qualcosa che può far riflettere, perché sapete, per una casa come Sony, che si è sempre basata sui single player, questo potrebbe essere l'inizio della presentazione sul mercato della sua nuova strategia, ovvero giochi di first party, giochi di terze parti, ma anche molti giochi live service invece proprio sviluppati dai PlayStation Studios. E dovremmo vederne in uscita due. Se sono Eldivers 2 e Concord, onestamente non so cosa pensare. Eldivers 2 mi sembra carino, ma non mi sembra che abbia il potenziale di spaccare il mercato e Concord non se ne sa ancora abbastanza. Per quanto riguarda invece i giochi in uscita, Rise of the Ronin e Death Stranding 2 già se ne era parlato in parte, quindi non è una gigantesca sorpresa, anche perché Death Stranding 2 c'è la seria possibilità che lo vedremo ai Game Awards, esattamente come è stato l'anno scorso, e quindi, in sostanza, se tutto questo dovesse essere confermato, abbiamo la line-up di Sony per il 2024. E fatemelo dire, è un po'... sottotono, ok? A meno che Concord non si riveli essere un gioco della Madonna, o Death Stranding 2, non spacchi proprio il mercato in due, che sicuramente venderà tantissimo, ma sarà con tutta probabilità un gioco molto autoriale, esattamente come il precedente, dato che è Kojima, insomma. Io ho come l'impressione che, ecco, forse Rise of the Ronin potrebbe essere una bella rivelazione, come lo fu Ghost of Tsushima, però vi dico la verità, ragazzi, io non ho una buona sensazione per il 2024 di Sony, almeno per adesso. Però, attenzione, si tratta sempre di rumor, si tratta sempre di una strategia che potrebbe anche mutare nel tempo, e magari, anche se il rumor dovesse essere confermato, magari questi sono i giochi che sono confermati ora per il 2024. Chi lo sa che da qui ai primi mesi del 2024 non ci sia il termine di sviluppo di magari un altro gioco o altre cose interessanti che possano essere sul mercato per arricchire l'offerta. È una cosa che ovviamente rimane necessariamente con un punto interrogativo, ma vi devo ribadire che se davvero le cose stanno così, e questa è la line-up di Sony un po' più first party, diciamo così, per il 2024, mi sa tanto che Sony si ritroverà ad avere un 2024 che assomiglia al 2022 di Microsoft. Una cosa che probabilmente voleva evitare, ma i rinvi di tanti live service, secondo me, hanno determinato una situazione come questa. Che anche questo è esattamente quello che è capitato a Microsoft nel 2022, quindi, voglio dire, non sarebbe neanche niente di nuovo. Di nuovo, sono tutti rumor, vanno confermati, ma è un po' la sensazione che ho. E ora passiamo al commento del giorno, ragazzi. Allora, SkaGaming mi scrive, bella puntata che io se complimenti per il taguarda dei 700 episodi, grazie mille, ora 701. A proposito dei gas, giusto per riflessione, possiamo considerare anche i vari Mario Kart Deluxe, Smash Bros come dei gas? Se sì, in questo caso abbiamo ad esempio i giochi multiplayer di successo su singola piattaforma, poi spesso consideriamo anche i multiplayer la stessa stregua dei gas, ma magari possono essere anche dei puri progetti multiplayer e non dei live service, praticamente. Che ne pensi? Allora, in realtà, nel senso, il tuo commento non è sbagliato, perché ovviamente non tutti i giochi multiplayer sono dei live service. Possono essere dei giochi multiplayer più tradizionali, un po' alla Mario Kart, e quindi magari tra i progetti di Sony c'è anche questo. Però ti devo ricordare che Sony ha parlato nello specifico di giochi live service. Quindi, paradossalmente, è più facile che venga fuori un live service single player piuttosto che un multiplayer non live service, perlomeno per quello che sono state le intenzioni comunicate di Sony. Poi di nuovo, vediamo, le cose possono essere tranquillamente in divenire. Il punto è che c'è una cosa di cui abbiamo parlato recentemente che d'ora in poi userò come reminder tutte le volte che si discute di queste cose qua. Giusto? Ovvero, un cavallo di World of Warcraft venduto come microtransazione ha guadagnato più di Starcraft 2. Ok, questo è il motivo per cui Sony sta cercando di sviluppare dei live service in cui mettere uno store, in cui mettere delle microtransazioni e quindi dare un supporto a lungo termine. Non necessariamente tutti questi live service dovranno essere mostruosamente predatori, anzi spero che non lo siano, e non necessariamente però tutti questi live service saranno uguali. E se vogliamo, secondo me, più che fare la distinzione tra multiplayer classico e live service, che ovviamente è giusta, ma io credo che Sony stia specificatamente sviluppando questi secondi e non tanto i primi, magari c'è da fare la distinzione sul fatto che non tutti i live service sono uguali. Può venire fuori un FPS più classico, può venire fuori un battle royale, può venire fuori un action RPG, anime, ogni riferimento è puramente casuale, può venire fuori un MMO, possono venire fuori tante formule diverse che appartengono comunque al cesto dei live service, però in realtà se riguardi l'uno con l'altro sono dei giochi che hanno in comune soltanto essere dei titoli con tanti giocatori e che vengono prolungati nel tempo, ma di generi magari completamente diversi. E quindi io in realtà mi auguro che Sony, fra questa dozzina di live service, abbia pensato a un ventaglio di esperienze veramente tanto ampio, perché altrimenti se sta sviluppando, diciamo, tre generi soli, sta facendo dodici giochi, ovviamente è una sorta di autoconcorrenza interna che la porterà a buttare via un sacco di soldi e magari però se gliene esce uno bene fare i miliardi e ricoprare tutto già solo con quello, che credo che sia una delle speranze principali di Sony, ma quello poi sarà un altro discorso e bisogna vedere come reagiscono i giocatori, poi una volta che quel gioco è sul mercato. Quindi secondo me il discorso è un po' questo, il tuo commento è giusto, ma io credo che Sony abbia in mente esattamente quelli. Ti piacciono le news? Allora non rifuggire dall'estetica come i malnati. Segui Chris anche su Instagram. Sul profilo Instagram del canale troverai meravigliose immagini di giochi e altro. Tante stories di aggiornamento e di contenuto, reel giornalieri di tantissimi tipi e altre giocose e corroboranti amenità. Segui Chris su Instagram così Chris è felice, tu supporti il canale e le cose. Ora torniamo alle news. E ora passiamo alle news a ruota ragazzi. Suicide Squad, video in arrivo a Rocksteady illustrerà la storia e il gameplay rinnovato. Ebbene sì, il silenzio mediatico a quanto pare è finito dopo l'annuncio e rinvio al 2024 di Suicide Squad e da Twitter dicono. Arriva una nuovissima serie Suicide Squad Insider. Nel primo episodio Rocksteady svelerà la storia e illustrerà il nuovo gameplay Suicide Squad Kill the Justice League. Tutto questo è provisto per la giornata di mercoledì 15 novembre. Inizierà questo il primo appuntamento e dovrebbe far luce sugli eventi compiuti al team britannico per superare le criticità segnalate dalla community. Quindi è un titolo che è previsto al lancio il 2 febbraio 2024 e che onestamente non ha dato una buonissima impressione almeno finora e sono molto contento di rivedere perché così vediamo di capire un po' più nel dettaglio che cosa riguarda questo gioco. Ok? Sì, è una ottima notizia e ne parleremo probabilmente nelle news dei prossimi giorni. Poi, non molto da dire qua ragazzi, Avatar Frontiers a Pandora è in fase gold confermato. Prima era soltanto una voce di corridoio e a quanto pare è confermato il team social di Ubisoft. È felice di annunciare l'avvenuto raggiungimento della fase gold di Avatar Frontiers a Pandora. Quindi il gioco è pronto ed è consegnato per la distribuzione. Quindi lo giocheremo il 7 dicembre nella sua versione 1.0 e dovrebbe andare tutto liscio. Vero? Poi, Newys, l'editore di Life of P investe in Blank Game, team composto da ex-dev di Cyberpunk. Newys ha annunciato aver investito 17 milioni di dollari in un software house polacca Blank Game Studios. Attraverso l'investimento ha acquisito una quota di partecipazione del 21%, fondato da tante persone che hanno lavorato in precedenza a Cyberpunk, anche il CEO di Rookies a Varsavia. Insomma, tanta gente che ha esperienza nel settore. Il co-CEO di Newys ha detto in qualità investitori strategici, consideriamo Blank Game Studios come un studio ponte a emergere con un formidabile contendente nel settore dei giochi di qualità AAA. Riconosciamo inoltre sostanziali sinergie tra le nostre esperienze nella creazione di titoli unici. Questo mi fa molto piacere. Sono stato molto contento del successo di Life of P, che è veramente un ottimo gioco, al di là dei miei gusti, e quindi bene che si stanno espandendo, bene che stanno trovando nuove energie e sono molto curioso di vedere quale sarà il loro prossimo titolo. Poi, a proposito dei prossimi titoli, Remedy si cambia. Project Vanguard diventa Kestrel, un multiplayer co-op premium, ebbene sì, anche va, anche Remedy, ma questo già lo sapevamo da dichiarazioni pressoché ufficiali, sta sviluppando anche lei un multiplayer. Dall'ultimo report finanziario di Remedy arrivano importanti novità su Project Vanguard, il gas free-to-play finanziato da Tencent, ebbene sì. I vertici spiegano di aver trasformato il titolo in un videogioco premium a vocazione cooperativa. Dalle cene di Vanguard nasce Kestrel, un videogioco premium con una forte componente multiplayer cooperativa. Parte l'ex team di sviluppo di Vanguard, lavorerà d'ora in avanti su altri progetti interni, mentre la leadership principale e alcuni membri selezionati del team danno forma a Project Kestrel e si concentreranno sulla realizzazione di questo titolo in fase concettuale. La nuova esperienza sarà maggiormente legata ai punti di forza principali di Remedy, mutuerà molte funzionalità e risorse progettate in origine per Vanguard. Quindi dice proprio creeremo un nuovo videogioco in puro stile Remedy nella realizzazione di questa eccezionale esperienza multiplayer cooperativa però. Quindi da quello che mi ha dato capire quello che è successo è che tentavano di spingerla e di finanziare per la realizzazione di un gioco multiplayer di quelli che conosciamo noi, Remedy non ci si è trovata e adesso ha cambiato mettendoci sopra la sua formula mantenendolo multiplayer però cooperativo con una certa vocazione e con una certa anima. Io direi, guardate, meglio così, ok? Remedy è un'azienda che è uno studio che conosciamo ormai bene, Alan Wake 2 parla da solo, direi, e quindi sono in grado perfettamente di realizzare dei bellissimi asset, chissà se saranno in grado di realizzare. Però un multiplayer divertente per quanto con lo stile Remedy. Sono curioso, sono curioso, però vabbè, ovviamente tra tutti i multiplayer che stanno uscendo e che vengono annunciati capite bene che non è che proprio impazzisco dall'entusiasmo. Detto questo però, mai avere eccessivi pregiudizi, vedremo come sarà. Poi, Baldur's Gate 3 in arrivo, la versione fisica e quella Xbox c'è, indizio proprio da Larian Studios sul profilo X, Twitter. Larian Studios ha pubblicato un post per sottolineare il generoso numero di candidature di Baldur's Gate all'edizione 2023 Game Awards, che potrebbe vincere ben otto premi diversi, però al termine del post dice appassionati Xbox e fan di giochi in formato fisico continuate a tenere d'occhio questi spazi per un nuovo annuncio, sarà una settimana molto impegnativa. Quindi è molto probabile che manchi pochissimo non solo al reveal della versione Series XS del gioco, ma anche un'edizione su disco che deve approdare sugli scaffali. Quindi, direi che Baldur's Gate 3 sta vivendo decisamente un momento d'oro e a mio parere solo merita tutto quanto, dalla A alla Z e quindi bene così. E purtroppo dobbiamo anche però dare notizia di altri licenziamenti nel mondo del gaming, anche Amazon licenzia 180 dipendenti della divisione gaming e non è decisamente l'unica brutta notizia per per quanto riguarda il mondo dello sviluppo. D'accordo? L'eliminazione di 180 posizioni interne sotto insieme gaming di Amazon. Riguarda l'intero Crown Channel e il team Game Growth. La stessa azienda avrebbe confermato l'accaduto. Il desiderio è ripuntare sul perfezionamento dei vantaggi di Prime Gaming, che ha necessitato di una rivisitazione all'approccio commerciale di Amazon. Le motivazioni sono le più svariate, ma alla fine finisce sempre col tagliare i posti di lavoro e quindi, voglio dire, alla fine che cosa importa? Per chi viene licenziato soprattutto. E niente, ragazzi, purtroppo dobbiamo parlare anche di questo, che è un po' triste, ma un po' è il mercato, un po' è proprio il periodo, santi Dio, stanno perdendo lavoro un sacco di persone. E dato che ne avevamo parlato, ragazzi, beh, ho deciso di ripresentarvi Lice of P. Ebbene sì, nonostante i miei gusti, è un gioco veramente ottimo, veramente ben realizzato e che ha avuto un successo, secondo me, più che meritato. È in sconto sui stand gaming del 37% e costa, guardate un po', 37,88. Valutate voi, ragazzi, e io voglio dire, sono forse l'ultima persona che ne può parlare, ma per quello che vale, è un validissimo titolo. Se lo prendete attraverso il link qui sotto in descrizione, come sempre, ricordatevi, io sono partner ufficiale instant gaming, perciò tramite il link affiliato potete prendere questo gioco o qualsiasi altro e tramite questo supportate il mio lavoro, il canale e il format delle news. Bene gente, è tutto per le news di oggi, grazie mille per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo, come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon, anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che, come sapete, escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani, ragazzi!